E what's up a tutti ciurma e benvenuti da Giugherini in questa nuovissima reaction Piccolissima parentesi facciamo tanti tanti cari auguri al nostro Crazen che oggi fa il compleanno Per cui ne approfitto per farti gli auguri anche in video Ti mando un bacione Allora ragazzi che dire ci sono stati Game Awards E sono state fatte vedere diverse cose interessanti Oltre all'assegnazione ovviamente dei premi Magari della conferenza ragazzi di tutte le altre cose Ne parlerò brevemente in un altro video perché c'è qualche pensiero che vorrei condividere con voi In questo esatto video ragazzi non vedo l'ora di fare questa reaction Perché? Perché in maniera totalmente direi inaspettata È stato appunto fatto vedere un trailer ufficiale di annuncio di The Wolf Among Us Voi sapete benissimo ragazzi quanto io abbia amato i lavori della Telltale Telltale che tra l'altro comunque sembrava aver chiuso i battenti Che aveva finito a stento gli ultimi due episodi dell'ultima stagione di The Walking Dead Grazie insomma a delle persone che comunque hanno dato i soldi necessari per finire il lavoro E quindi questo annuncio per me personalmente è stato veramente totalmente inaspettato Quando mi sono alzata la mattina ragazzi ho visto che fra le varie cose annunciate c'era questo titolo Sono rimasta veramente basita Per cui mi sono detta non guardare il trailer facci una reaction Perché? Perché The Wolf Among Us appunto ragazzi è stato uno dei lavori di Telltale che mi è piaciuto tantissimo Probabilmente forse anche un pochettino di più rispetto a The Walking Dead Anche se poi The Walking Dead ragazzi è proprio su un altro piano da certi punti di vista Però questo gioco mi era piaciuto veramente tantissimo Perché comunque riprendeva appunto aspetti fiabeschi Che lo rendevano estremamente interessante E quindi che dire che appunto ragazzi voglio vedere questo trailer insieme a voi Purtroppo dura soltanto 47 secondi Quindi dura veramente pochissimo Però non perdiamo più tempo e andiamo a guardarlo Ah purtroppo ragazzi il video non ha i sottotitoli Nemmeno in inglese non capisco il motivo Per cui vabbè spero di riuscire a capire qualcosa di quello che viene detto Sempre se viene detto qualcosa There was a time when you were heartless Brutal A monster And I'm proud of you for changing all that but I'm here to ask you to be those things once more For them For me Can I count on you Bigby Can I count on you Always Oh che bello Oddio raga Oh Vabbè a quanto pare ragazzi è una cosa ancora affidata a Telltale Quindi questo io non so spiegarlo sinceramente Se qualcuno di voi ha qualche notizia riguardo appunto la Telltale e questo aspetto Per favore me la faccia sapere Io non mi sono informata prima di guardare questo trailer Perché appunto non sapevo se effettivamente fosse ancora un lavoro affidato a Telltale A quanto pare lo è E vabbè Allora nel trailer ragazzi non si vede assolutamente nulla Se non erro La voce che si sente La voce femminile che si sente dovrebbe essere quella di Snow White Sarebbe a dire dovrebbe essere quella di Biancaneve se non sbaglio E lei che cosa gli ha chiesto ragazzi Praticamente lei ha detto C'era un tempo in cui tu eri soltanto un animale Cioè eri un mostro E io ti ringrazio insomma Sono orgogliosa del fatto che tu abbia cambiato questi tuoi aspetti di te Ma ora come ora ho bisogno che tu sia queste cose Posso contare su di te Bigby Posso contare su di te E lui le risponde Sempre Quindi Oh mio dio Cioè Ehm Non lo so ragazzi Allora ovviamente non è che avrei tutto questo motivo di essere esaltata Però lo sono Lo sono comunque perché questo ragazzi è fantastico Cioè per chi ha amato il primo gioco Per chi ha amato il primo capitolo Chiamiamolo così Questa è una vittoria assoluta Perché ovviamente ragazzi Con il fallimento della Telltale Tutte le speranze dei videogiocatori Che erano state riposte in un secondo Probabile capitolo Erano totalmente andate in fumo Per cui Questa è stata una novità incredibile A mio avviso E' una scoperta fantastica Per cui questa è una assoluta vittoria Per noi Che lo desideravamo da anni E' assolutamente incredibile Fantastico Sono esaltata al cento per cento E wow Cioè io non vedo l'ora ragazzi Non vedo l'ora Di mettere le mani Su questo sarà un sequel Suppongo Anche perché effettivamente Se non ricordo male Il finale del primo gioco Ragazzi aveva lasciato Un pochettino Con l'amaro in bocca O con Dei dubbi Più che altro Quindi dubbi Che finalmente Probabilmente Troveranno Una spiegazione E veramente ragazzi Io sono al settimo cielo Al settimo cielo Per questo annuncio Non so voi Non so se Fra di voi C'è qualcuno Che come me Ha amato Il primo gioco E quindi Come me E' esaltato A livelli stellari Per questo incredibile annuncio Fatemelo sapere ovviamente Qua sotto in commento Questa reaction Termina qui Grazie a tutti Un bacione E obdoscio a tutti ragazzi Da Giocherina Ciao